Ehi, bello a tutti, benvenuti su un nobissimo video, io sono Mr.Dilan e oggi ragazzi siamo qui in un nobissimo video Oggi ragazzi andremo a reagire ai miei TikTok ragazzi, quindi praticamente adesso andremo sul mio profilo di TikTok Ragazzi siamo già 65.000 follower qui su TikTok e andremo a reagire a qualche video Gli ultimi TikTok sono tutti andando flopando ragazzi, perché adesso devo trovare delle idee gogliardiche per salire su TikTok Ok, ragazzi iscrivetevi al canale, vi ricordo lasciate like e attivate la campanella Allora ragazzi guardiamo un mio TikTok, guardiamo questo qua Questo ha fatto 32k così Ok 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 poi quando compri lo stile su wish se magari abbandonavi no 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 mi dissocio a un certo punto ho sentito finisci mi ma sei qui tav no ma questi questi erano tutti tipico dei kid vabbè questi erano tutti i commenti di sto video che hanno fatto straridere poi vediamo anche un altro da 84 ascoltiamo ma io non faccio un'eposizione io lavoro in un negozio di argomentato ok allora tu mi stai ah qui quando mi avevano anchirato ragazzi per chi di voi mi senti su youtube ragazzi mi hanno appena anchirato il canale regalo c'è mi fanno vado a guardare che schifo guardate hanno cambiato il nome di bitcoin foundation e poi ragazzi hanno aspettato una linea regalo bitcoin ragazzi ma che schifo che ha 300 like eppure aveva 800.000 spettatori perché votate giustamente come ho fatto ragazzi voglio vedere adesso ragazzi tra poco vedremo il tik tok più famoso che ho fatto ragazzi poi quel tik tok ragazzi quel tik tok li modificerò l'audio perché è copyright quindi dovrò modificare l'audio ragazzi andiamo a vedere questo tik tok qua allora boris caro mio bello se sai perché io gioco tutto il giorno a fortnite o in tutti i videogiochi perché non siamo siamo inseriti canta con il per titolo natalizio nel periodo natalizio riverimento Ponte ha fatto la regola Allora Boris Ok, c'è questo Ok, canta con me Nel traffico scherzo sport Sport, sport Fanno bubba, bubba, bla, bla Con una bica, fa tic-tic-toc Toc-toc Toc-toc Bella, bro Bella Sì, sì, per favore Ok, io c'ho la Coca-Cola E poi fatta E poi faccio Bella, bro Questo di Ale Clash, raga Davvero 70k ha fatto sto video, raga Cioè, stai a dire Ok, raga Eccolo qui, ragazzi Il mio video più famoso, ragazzi Che ha fatto un milione Di visualizzazioni, raga Questo video Ha spaccato tutto, raga Cioè, ha fatto Un sacco di visual E un sacco di mi piace Ora le vedremo Nel lighting modificerò l'audio, raga Quindi Bluvello sentirete un po' diverso Quindi Andiamo, dai Andiamo 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 Questa ragazza Nel video più popular Comunque ragazzi Se questo video vi è piaciuto Grazie Yoguchi Comunque ragazzi Se questo video vi è piaciuto Lasciate il like Iscrivetevi Ti fate la campanellina Comunite questo video A tutti i vostri amici Ragazzi Mi raccomando Noi ragazzi Ci vediamo un altro video Ragazzi Alle 17.15 Ogni giorno Ragazzi Sul canale Bella ragazzi Ciao Ciao Ciao